Oggi facciamo un mini circuito, ve lo faccio vedere, lo facciamo insieme e poi lo ripetete per ben 4 volte con un recupero di 10 secondi, ok? Si va! Sous-titrage ST' 501 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 I'm feeling like this I'm feeling like this I'm feeling like this Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501